Onorevole Passate da questa? Ah no, anche da questa. No, anche da questa! fisico è importantissima nella ferrata bisogna essere bella bisogna essere pronta bisogna essere bella 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 ma Grazie a tutti. Ecco, siamo agli ultimi metri, siamo agli ultimi metri. Ma io volevo fermarmi già prima, perché ascolto sempre un altro. Chi è? Lui. E poi l'avevo introvata.